Ciao amici, ciao amiche, benvenuti in un nuovo vlog flash Allora, ma quanto siete accaniti del web, di tiktok Qualsiasi persona che faccia una live Che può essere... Qualsiasi persona, in questo caso mia moglie Ma dove? Che è? Tutti a fare una live Ma siete proprio messi male? Ma ce l'ha fati? Adesso, nel venire sul balcone, mia suocera, giustamente, ascolta un po' di tutto E c'è una persona, di cui non faccio il nome Che per me conta veramente meno le due di picche Che stava facendo una live Adesso non posso sapere, ma sicuramente so che stava facendo una reaction Comunque sei messa male Sei messa malissimo Anche perché comunque tutte fanno le reaction Tutti, quindi voglio dire Fate solo che pena e date via del vostro Ci vediamo con un prossimo vlog flash Ciao! Ciao!